Raya! Sei ubriaca, Nina! Lei starà meglio con me! No! No, Nina! Polizia, ti arrenda! Ti posso già chiamare mamma o devo aspettare fino al matrimonio? Fallo quando ti sembrerà più giusto. Lei non è tua figlia! Kristen, Lisa è con te? No. È scomparsa. E' là fuori da qualche parte. Kristen! Centrale, abbiamo in corso un 207 Alpha al Double Air Cafe. Lisa! Sì, la troveremo, te lo prometto. In prima visione assoluta, stai lontana da mia figlia. Venerdì alle 21.20, Rai 2.